Buongiorno cari amici e benvenuti anche in questa bellissima domenica di sole qui a Triviniano alla corsa dell'arcobaleno vedete alle mie spalle il ristoro finale tutti gli atleti tanti colori tante scarpe le persone sono molte e sono tutte contenti di aver corso l'ho fatta anche io questa corsa un bellissimo tragitto un po in mezzo al verde un po sull'asfalto la giornata è bella il sole ci ha accompagnato oggi il ristoro finalmente finale l'ho fatto l'arcobaleno suscita sempre un certo fascino i suoi colori e sui fasci creano emozioni e sensazioni che si sono provate a Triviniano dove si è svolta la diciottesima edizione della marcia dell'arcobaleno organizzata dalla polisportiva arcobaleno in collaborazione con Wisp Venezia giornata bellissima siamo stati fortunati la diciottesima edizione di quest'anno siamo diventati maggiorenni un saluto agli amici di running tv che sono venuti a trovarci anche quest'anno è un'edizione anche fortunata nei numeri perché quest'anno credo che abbiamo stracciato tutti i record abbiamo mi sembra un 1600 iscritti veramente un numero che non pensavamo proprio di poter raggiungere fortunati per la giornata io mi auguro anche che la gente venga perché è un progetto che piace è una giornata molto bella che invita a correre e alla partenza si presentano in 1600 tra runner e camminatori alle ore 8 e 30 viene dato il via sono tutti assieme ed è proprio un arcobaleno di colori e mentre gli atleti iniziano la loro corsa incontriamo giuseppe marangon titolare di brema sport e responsabile del brema running team qui a trivignano troviamo anche beppe marangon di brema sport e intanto parliamo del gruppo che rappresenti come sta andando il 2016 per la tua squadra abbiamo proprio concluso giovedì sera la cena sociale eravamo in 170 persone quindi il gruppo ogni anno cresce e cresce con entusiasmo veramente grandioso perché comunque siamo ambasciatori dell'associazione come tu sai del volo delle malattie reumatologiche di padova abbiamo conchiuso come avete visto nelle precedenti puntate che avevate ripreso anche voi la martellago padova che ha portato dei fondi a questa associazione di circa 5000 euro quindi tutto procede bene stiamo organizzando la non edizione dell'ora di martellago che si terrà il 10 di settembre di quest'anno quindi siamo in trincea sempre una domanda tecnica la moda di adesso vede tanta gente che usa le scarpe senza le calze col calzino corto e nella corsa ma la corsa la calza diventa un elemento fondamentale per tantissimi motivi per una protezione del piede per migliorare la sudorazione ci possono essere calze di varie misure le corte le lunghe a compressione che in questo momento stanno spopolando un po per un discorso di protezione di muscolare e di circolazione quindi la calza diventa un elemento fondamentale con incognubio della calzatura ritorniamo alla corsa trivignano i suoi dintorni sono pieni di runner che corrono in questa ludico motoria con vari percorsi 5 7 14 21 e 30 chilometri percorsi con molto verde su strada sterrato e lungo gli argini e che entrano nel parco laghetti di martellago per poi tornare a trimigliano insomma una corsa fatta di verde ambiente e sport è una soddisfazione vedere vivere le periferie voglio dire perché molto spesso che i paesi rischiano di diventare le gran valie delle città città dormitorio la gente ci viene ad abitare solo perché magari ci sono i piccoli villaggetti nuovi invece oggi ci piaccia più vedere un paese vivo un paese dove la gente si riconosce attorno a un progetto che è quello dello sport ma che poi diventa anche un aspetto sociale se vogliamo lasciamo completare i percorsi ai nostri atleti e torniamo nel piazzale vicino alla chiesa dove seguiamo l'arrivo di runner e camminatori incontriamo anche giovanni schiavo che una volta finita la corsa immortala con i suoi scatti gli arrivi degli altri runner una volta arrivati si va in zona ristoro con i volontari della polisportiva arcobaleno impegnati ad assistere gli atleti e per tutti bibite calde e fredde dolci e altre pietanze accompagnate da una sana spremuta d'arance offerta da sicilia agrumi spremuta direttamente dalla sicilia super fresca ragazzi vitaminizziamoci bravi ragazzi bravi allora è importante una bella spremuta dopo la cosa è importantissima praticamente noi stiamo visibilizzando tutti i corridori la sudorazione sta passando provate a guardare questi ragazzi complimenti bravi a tutti una bella spremuta per recuperare e beh certo anche se ho anche l'influenza quindi ci stanno bene le vitamine con il ristoro si vivono momenti di amicizia si commenta la corsa e i giudizi sono senz'altro positivi cosa dice il cronometro? ma dice bene oggi no no scontento veramente bella bella gara veramente soddisfatto oggi il percorso? molto bello veramente simpatico misto asfalto sterrato divertente ti passa molto velocemente il tempo correre qua bella complimenti ragazzi bel percorso bella giornata bello tutto si bellissimo bellissima giornata tutto bello allora per me è andata molto bene dovevo fare una tempistica e l'ho rispettata e sul percorso cosa mi dici? il percorso pensavo fosse tutto lineare invece ho visto che c'era un po' di sterrato ma ce l'abbiamo fatta dai complimenti ancora per la marcia come è andata? benissimo 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 allora là il gruppo bella corsa grazie sono partito e bel percorso bella giornata e bene dai contento insomma com'è correre parte su strada e parte su sterrato? oggi è un bel sterrato piano e battuto mi sembra bene insomma bene bene tutto bene bella giornata bel percorso allora qui a Triviniano troviamo Samuele io sono i campionati italiani a marzo di marzo a CONA con l'associazione Sorriso giornata ideale oggi per correre fantastica e tra l'altro voglio ringraziare pubblicamente il Brema Running Team la mia amica Monica viva il Brema e le donne del Brema Running la mia amica Elisabetta e io sono la Chiara un percorso straordinario ottima organizzazione bravi così ragazzi continuate concludiamo con un saluto da Triviniano e appuntamento al prossimo anno quello della diciannovesima edizione bene cari amici avete visto che bella corsa in questa splendida giornata di sole abbiamo ascoltato anche con piacere i consigli di Beppe Marangon sui calzini giusti da usare adesso la moda è anche nella corsa tanti bei colori e tanti bei modelli ed ora invece per voi vi abbiamo preparato il prossimo servizio si è tenuta nei giorni scorsi a Moniego di Noale la seconda Corri San Valentino organizzata dal Noi di Moniego in collaborazione con Atletica Odace Noale e MTB Team di Noale in una mattinata di pioggia sono stati oltre 500 i partecipanti che si sono distribuiti nei tre percorsi 6, 10 e 19 km purtroppo oggi il tempo non ci ha premiato però insomma noi abbiamo fatto il massimo che si poteva fare con queste condizioni e ci auguriamo che la prossima edizione sia una edizione soleggiata come quella dell'anno scorso adesso siamo anche in procinto di organizzare comunque la prossima competizione che faremo probabilmente a maggio in concomitanza con la sagra di Sant'Urbano e l'idea nostra è quella di fare una corsa serale alle 8 di sera di 8 km e probabilmente anche tutta sterrata se il tempo ci permetterà di farlo perché abbiamo una bellissima Osi l'Osi del WWF qui a Noale e quindi vorremmo sfruttarla da questo punto di vista per intanto accontentiamoci di quello che siamo riusciti a fare oggi abbiamo visto che ci sono dei runner molto forti che sono venuti a trovarci Osi quindi questo ci fa onore ci auguriamo che tutti si divertano Ricordiamo una corsa inserita all'interno della festa qui di Moniego di San Valentino Sì, è la corsa inserita nella sagretta di San Valentino che è praticamente la sagretta che si è ripresa dopo qualche anno di stop e quindi è una sagra organizzata da noi che è un gruppo di volontari che con tanta buona volontà fa del bene per la parrocchia per il patronato e soprattutto per l'asilo ricordiamo che l'incasso totale di questa corsa sarà interamente devoluto all'asilo al Cobaleno di Moniego Ci spostiamo in zona traguardo ed ecco gli arrivi della 6 km prima assoluta la giovane e talentuosa Sara Luise Sì, è stata lunga soprattutto perché c'era la pioggia e comunque era anche bello il percorso, mi è piaciuto È la tua distanza preferita o è una tappa di allenamento per gare un po' più lunghe? Io di solito faccio i 1000 metri, i 2000 quindi era tipo allenamento Cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei che magari preferiscono altri tipi di sport rispetto alla corsa? Beh, secondo me ognuno può scegliere lo sport che vuole però chi ha una passione per l'atletica la porta avanti La pioggia continua a cadere incessante Ed ecco ora quelli della 10 km Per gli uomini il primo è Luca Barbiero Un percorso molto bello Tutto asfalto fortunatamente Peccato per il tempo, per questa pioggia anche perché comunque avremmo fatto un bel numero di persone rispetto alla prima edizione dell'anno scorso che comunque è stata una bella edizione comunque è un percorso interessante e molto particolare È la mia distanza preferita ho fatto anche qualche mezza però appunto i 10 km ti permettono di spingere e di dare qualcosa in più ovviamente rispetto ad altre distanze un po' più lunghe È appena iniziato il 2016 cosa ti aspetti da questo anno sportivamente parlando? Allora quest'anno mi aspetto spero anche altre soddisfazioni in gare comunque più brevi, più veloce come ad esempio 1.500, 3.000, 800 però fare insomma gare anche con i 10 km fa sempre piacere è sempre una bella cosa E sempre per i 10 km arriva anche la prima donna è Jessica Doria A me piace correre con la pioggia è il mio tempo ideale ho sempre fatto i miei personali con la pioggia o con la nebbia Tuo parere sul percorso? L'ho fatto anche l'anno scorso in coppia con mio marito e ho visto che è lo stesso dell'anno scorso a me piace perché comunque sono andato in mezzo alle stradine di campagna e è molto bello la bicicletta mi ha accompagnato durante tutto il percorso e sono molto contenta La corsa di Moniego ha al suo interno un evento speciale la corsa in coppia primi in questa graduatoria sono stati Dario Scatolin e Ambra Vecchiato Allora hai detto fatta? È un percorso dopo una lunga 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 allineamento e siamo riusciti a correre questa volta Il percorso? Il percorso bellissimo strada perché sto soffrendo molto le campestre quindi per me era l'ideale strada, strada, strada Com'è correre in coppia? Allora la seconda volta faccio un'esperienza così però questa volta è un percorso più lungo ed è un compagno della mia squadra quindi ha tutto un altro senso e quindi sono felice perché è una persona che conosco da poco è simpaticissima e sono contenta perché rientro da due mesi da un infortunio di due anni per cui abbiamo corso bene è stato un attimo compagno per cui esperienza da ripetere E sempre tra le coppie ecco che arrivano Nicola Menti e Claudia Morosin La coppia è bellissima poi mi stiamo preparando anche una maratona che faremo la settimana prossima speriamo che sia di buon auspicio questa corsa e buona giornata a tutti quanti Per te? Grazie, tutto bello, bellissimo anche un bel percorso anche la pioggia è stata bella lo stesso grazie E alla fine sono state una ventina le coppie partecipanti alla Corri San Valentino di Monievo Nonostante la pioggia si arriva con il sorriso e con il direttore del percorso Franco Mason che attende e incoraggia tutti i partecipanti Arrivano anche quelli della distanza lunga Primo tra gli uomini il triatleta mestrino Massimo Cigana mentre tra le donne è Silvia Pascoli a tagliare il traguardo per prima Continuano gli arrivi e la festa si sposta sotto il tendone della Sagra di Monievo dove ci si asciuga dove c'è il ristoro e dove avvengono le premiazioni L'appuntamento sicuramente è per l'edizione del prossimo anno speriamo con meno pioggia E come ogni settimana adesso vi proponiamo l'intervista con il personaggio Questa settimana infatti Rantv ha intervistato per voi Pietro Bernardoni che ci ha spiegato qual è la differenza della corsa su pista e della corsa su strada e quali sono i benefici per i velocisti che appunto si cimentano sulla strada in percorrenze più lunghe Sentiamo che cosa ci ha raccontato i nostri microfoni Pietro Bernardoni Guardate insieme il servizio con noi Tu corri in pista cos'è che vi dà la corsa su strada per ottimizzare appunto la vostra specialità Beh allora come tutte le distanze in mezzo fondo bisogna avere una grande componente aerobica questi lavori lavori molto sotto questa componente a detti altri ritmi a livello di soglia aerobica lavoriamo anche sulla capacità e sulla potenza che sono altre due componenti che ci permettono dopo di curare più il lavoro latato per persone come me che corrono comunque distanze più corte come 800-1500 anche 3000 insomma E invece il contrario? Beh in contrario diciamo che il lavoro comunque veloce anche per distanze più lunghe aiuta sia comunque l'aspetto qualitativo soprattutto in prossimità della competizione in prossimità della condizione del periodo che un atleta prepara nella programmazione di inizio anno diciamo che i lavori veloci aiutano comunque a qualificare di più il lavoro e soprattutto anche una cosa un componente che ahimè molti non ritengono importante è l'aspetto comunque tecnico imparare comunque a correre meglio previene infortuni e anche affaticamento durante le gare ovviamente la biomeccanica di corsa sia su distanze più veloci che distanze più lunghe cambia quindi bisogna lavorare mirando la propria distanza quindi per lavori veloci può essere inteso anche di 400 con recupero breve molto breve o anche di 200 di 300 magari con periodi un po' più caldi e come dicevo prima soprattutto in prossimità molto vicino alla gara aiutano proprio a lavorare su quella fibra un po' più veloce che tendiamo un attimo a rallentare su distanze un po' più lunghe come queste gare qui di poi 15-20 30 km ecco ed ora invece il panorama delle notizie in breve tutta per voi ottimo debutto stagionale per Leonardo Dei Tosse al Palae Indoor di Padova l'Azzurro di Vittorio Veneto ha chiuso i 5.000 metri di marcia in 19-23-07 sul secondo tempo di sempre il grande cuore di Daniele Cesconetto ha fatto ancora una volta centro durante l'Endurance Day for Bebe di San Vendemiano ha corso per 24 ore in interrotte su Tapirulan a sostenerlo incitarlo e accompagnarlo su altri Tapirulan circa 200 tra amici e atleti alla fine Daniele ha percorso 156 km e sono stati raccolti 4.460 euro interamente devoluti in beneficenza in particolare all'associazione Art for Sport capitanata dalla campionessa di scherma Bebe Vio e che si occupa dell'acquisto di costosissime protesi sportive e della promozione dello sport come terapia nei bambini portatori di protesi la Valdo Biadenese Cristiana Follador ha vinto a Fogessimo di Cividale del Friuli il secondo trail tremendo un percorso di 25 km una vera festa del cross quella di Gubbio dove si sono svolti i campionati italiani individuali e di società di corsa campestre con oltre 2000 atleti e 300 club partecipanti vittoria assoluta in campo maschile del 19enne polizzotto trentino Yeman Krippa che vince il suo primo titolo italiano oltre al tricolore Under 23 per le donne titolo italiano per la siciliana Silvia La Barbera e argento per la Vicentina Federica Del Buono che al suo rientro è anche campionessa italiana Under 23 l'Anna Feltre invece ha conquistato il titolo italiano maschile di Staffetta bel risultato anche per Ilaria Fantinelle prima nella categoria Junior bronzo invece per l'italo marocchino Ella Mari di Vis Avano e terzo posto in campo assoluto per le fiamme oro trascinate dal trevigiano Paolo Zanatta come sempre l'ampia pagina degli appuntamenti tutti gli appuntamenti appunti per noi runner dove andare a correre e in che occasione Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti passiamo a sabato 5 marzo 2016 a Monselice 4 passi in rosa chilometri 6 e 11 a Zero Branco invece campionati provinciali cross corto e a Tezze sul Brenta Vicenza camminare de notte in Brenta chilometri 5 e 9 passiamo a domenica 6 marzo 2016 a Belluno il vento tra i capelli chilometri 5 a Caselle di Selvazzano Padova marcia di Againa Padovana chilometri 3 5 e 9 12 e 19 e 23 a Castione di Loria Treviso marcia tra Campi e Roste chilometri 5 11 e 21 a Cavazzale Vicenza marcia del donatore di sangue chilometri 7 12 e 20 a Conegliano Treviso Treviso Marathon più Treviso Alf Marathon a San Venemiano Treviso la Muran 2 chilometri 9 a Verona in Piazza Bra la Corsa Rosa di Giulietta chilometri 5 e 10 e a Villaga Vicenza marcia dei Buieli chilometri 5 12 20 e 30 bene cari amici siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata sotto questo bellissimo e caldo sole anche se il sole è gradevole però bisogna andarsi a cambiare ora comincio a raffreddarmi anche io vi lascio fino alla prossima puntata dove vi aspetto sempre numerosi vi lascio così con un abbraccio l'indirizzo in sovraimpressione vi ricordo è sempre lo stesso ora vado a cambiarmi e vi faccio un bel saluto fino alla prossima puntata arrivederci e a ritrovarci alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti